un sospiro allora video nuovo che tanto nuovo non è diciamo è nuovo come impostazione perché stiamo usando il 2008 denon adesso allora ho avuto praticamente un paio di diciamo di di prese come si può dire diciamo di 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 dialoghi insomma chiamiamoli così con alcune persone siccome che sta andando di moda il vinile dei quali qui abbiamo un giradischi da qualche altra parte ne abbiamo degli altri qua ne abbiamo un altro ancora insomma qui abbiamo il canwood eccetera eccetera ne abbiamo un po dappertutto ecco di giradischi e va di moda anche il vinile perché ovviamente corredato al giradischi testina vinile macchina lavadischi puntina cavetti custodie interne custodie esterne dei vinili accessori spazzolini liquidi e già che ci siete comprati anche un guinzaglio per il cane che magari che se un domani cambia la situazione invece del vinile vi piacerà più o pascolare il cane almeno avete anche quello come accessorio no niente uno studio dell'università di oxford ha detto che metterci i piedini sotto un lettore cd migliora del 50 per cento la resa che ovviamente adesso alla gente non gliene può fregar di meno quando sarà passata la moda del vinile perché probabilmente come tutte le mode passano perché quando la gente soprattutto produttori venditori e aziendali eccetera eccetera vedono che il disco il vinile non tira più cos'è che fanno prendono i cd li cambiano estetica anteriore e li fanno apparire come novità 2023 quando quel cd è nato esattamente nel 1976 con la collaborazione sony philips di fatti le meccaniche cd 10 cd 3 e cd 12 che girano tuttora adesso anche sul lettore cd che costano 25 30 mila euro sono figlie sono esattamente le stesse figlie delle meccaniche c3 c11 c12 della philips o della sony che tanto alla fine non è che siano proprio disuguali quindi state un po attenti a farlo mettere nel sedere a furia di comprare giradischi cd cd voglio dire dischi e accessori questo quell'altro preamplificatori ria esterni decodificatori eccetera eccetera perché quando quando vi sarete messi quando vi sareste o vi sarete messi in casa migliaia e migliaia di euro pensando che poi ascoltando un dischetto o diciamo un vinile degli anni 70 di avere la rivoluzione del 2023 o 2022 state sprecando soldi perché il vinile suonerà sempre da vinile e tutti gli accessori che ci mettete sopra non sono altro che oggetto di vendita da parte di chi e ve li propone basta come ho detto tante volte un buon giradischi un buon amplificatore rapportato all'epoca è una coppia di casse che possono essere molte avide possono essere tenorel possono essere agi possono essere denon possono essere pioneer philips gbl electro voice ciare ma ma ce ne sono un miliardo e 700 milioni di di casse dell'epoca anni 70 quindi se voi riuscite con 5 600 euro a fare un impiantino con un giradischi decente un amplificatore a 30 40 va per canale una coppia di cassa che trovate a 100 150 euro voi avete il sound degli anni 70 chiuso il discorso tutto quello che vi paventano per farvi spendere soldi sono tutte puttanate sono tutte prese per il culo e basta quindi a prescindere dalla presa per il culo andiamo oltre dopo il vinile che per voi ora per chi ama il vinile e l'ha sempre usato da 50 anni come me non li cambia niente perché io uso i miei impianti e ascolto i miei vinili chi invece si è approcciato al vinile in questi ultimi anni pensando che che sia il prossimo futuro no non è altro che un participio passato remoto che che hanno fatto ritornare in vita solo per lucro per scopi economici perché nella i fai non c'è più un cazzo da inventare e questo qua ve lo dico serenamente ve lo dico praticamente con tutta onestà e praticamente col massimo diciamo della vabbè è inutile che prendiamo in aggettivi allora quando la gente si scasserà il cazzo di spendere 20 30 40 50 euro per ogni lp perché nel 2023 tranne che l'ultima vampata dicembre che avete la tredicesima nel 2022 nel 2023 dovete contare i soldi per andare dal fornaio e non contare i soldi per portarli nei negozi di dischi perché sarà più utile avere i soldi per il fornaio nel 2023 se voi non l'avete ancora capita allora cosa si inventeranno i nostri produttori di ai fai e di ai end che finita l'epoca anni 70 inizierà all'epoca anni 80 e anni 90 perché la cosa è ciclica cioè è inutile che andiamo a speculare sulle cose la cosa è ciclica nella i fai non c'è più nulla da inventare tranne che riproporvi in chiave moderna quello che è già stato fatto allora nelle università americane e cinesi a taipei anche hanno detto che mettere quattro piedini sotto un lettore cd il cd suona meglio infatti ho sentito anche una persona che ascoltando the dark side of the moon dei pin floyd sentiva addirittura il flauto di gazelloni da quanto da quanto praticamente è diventato raffinato il lettore cd coi quattro piedini sotto quindi di conseguenza non fate i meravigliati praticamente sapete già da adesso cosa vi aspetterà nel 2023 allora siccome che la rivoluzione è tutta cinese essendo popolazioni comuniste i piedini sono rossi mentre noi italiani siccome che siamo i supereroi di questo per il culo no inventeranno i piedini silver allora i quattro piedini da mettere sotto vengono venduti a 99 euro poi in terza posizione c'è il silver 159 euro in seconda posizione il gold 229 euro e in prima posizione assoluta c'è il bianco curru cucu 599 euro quattro piedini e se ascoltate praticamente un disco un cd in super audio cd con questi quattro piedini curru cucu sentirete anche le melodie celesti e le fanfare degli angeli garantito poi se vi sarete accorti che vi hanno pigliato per il culo non ci sono problemi prendete il curru cucu da 500 euro di quattro piedini ci mettete sopra un bel pino visto che siete in tema natalizio praticamente siete a posto dove stanno i problemi cioè la gente ormai abituata a credere a tutto comprate i piedini curru cucu quattro piedini curru cucu a meno di 500 euro ma siete fortunatissimi però dopo ci saranno le persone come me che dicono aspetta un attimo cos'è questo piedino curru cucu aspetta un attimo che andiamo dove vendono le piante grasse e che forse lo troviamo senza scritta curru cucu però con un euro ti danno anche la piantina grassa sopra poi se questi qui li verniciate di argento o li verniciate con tinta oro potete fare anche i regalini di natale però nel frattempo avete speso 150 euro 250 euro e 500 euro per fare i piedini ecco io adesso vi faccio ascoltare il concerto grosso perché giustamente non avrete mai ascoltato in questa maniera il concerto grosso a di vivaldi e grazie a tutti benissimo adesso spegniamo pure questo è il signor vivaldi praticamente concerto grosso e la scorreggione che avete sentito con il violoncello finale praticamente era praticamente una solo in re minore perché qualcuno sentendo un suono grave un suono grosso pensava che fosse re maggiore no era minore credetemi sulla parola ecco allora questo per per farvi capire che la presa per il culo sta sempre dietro l'angolo dopo i cavi che costano 40 euro al metro dopo praticamente le super casse ultra poliedriche fatte praticamente con 297 mila sfaccettature dopo il ritorno glorioso alla qua io ce no uno qui sul divano ce n'ho uno di qua sul divano la in fondo sotto i moccoli ce n'è un altro qui dentro ce n'è un altro ancora qui sotto ce n'è un altro ancora lì sopra c'è un altro ancora la dietro c'è un altro ancora qui sopra c'è un altro ancora e dulcis infundus qui dietro c'è un altro ancora che sarebbe quello della mitsubishi spettacolo qua che sarebbe quello in piedi quindi da parte mia il disco li sto ascoltando dal 1968 quando mia mamma ha comprato la prima fono valigia della mi var quella che davanti c'era la radio apriva il coperchio sopra mettevi il disco che dopo c'era anche la lesa a l'ikea e in altri posti stanno riproponendo la fono valigia quella che tirate sul coperchio che è proprio una valigetta come quella che usavano l'immigrati no quella legata con lo spago aprite la valigetta che è proprio in cuoio e c'è il giradischi che sborda fuori perché la valigetta è piccola perché per contenere i prezzi la valigetta deve essere per forza piccola no perché sarà un 35 per 25 però esteticamente è fatta forma proprio di valigetta in cuoio con la maniglia con il manigliotto e costa mi sembra sui 99 euro e potete addirittura passare in digitale l'lp perché c'è la chiavetta usb la collegate al computer o a una pennetta e automaticamente vi resistere anche il disco ma ci mancherebbe altro allora dopo la novità dei dischi dovranno passare epoca dovranno passare la palla su altre cose e dov'è che la passeranno sul ritorno del cd quindi secondo il mio punto di vista tutti quei quattro sgamberati praticamente mentali che in questo momento si stanno privando di tutti i loro cd degli anni 80 anni 90 eccetera eccetera secondo me è meglio che se li tengano io ne ho circa 3000 di cd diciamo originali anche degli area dei dei toto pin floyd zeppelin getrotal etichette varie teller che sheffield grp e philip decca london oltre ad avere cantanti italiani stranieri e tutto quanto io i cd li tengo perché passata la moda del vinile perché la gente se qualcuno di voi si ricorda buttavate via le vespe buttavate via le fia 500 degli anni 60 70 no poi è ritornata la moda e la vespa il vespino 50 ve lo facevano pagare 2 3 4 5 mila euro idem con patate la fia 500 l'anno prima la buttavate via anzi dovevate pagare 200 mila lire per farla demolire l'anno dopo la pagavate 5 6 7 8 milioni fino a pagarla 5 6 8 10 mila euro di adesso cos'è successo? che anche la fia 500 e la vespa sono in declino perché uno dice che io vado a comprarmi una vespa 50 e pagarla 5 mila euro ma voi siete deficienti io ci attacco 2 mila euro mi compro l'automobile ecco perché la vespa sarà sì un simbolo però praticamente non deve pesare sulle tasche della gente quindi anche il vinile adesso ha fatto la sua ascesa sta barcamenandosi per carità di dio perché giustamente non è che la moda la possono far cadere in 5 minuti e l'anno prossimo quando scenderà un po' la moda automaticamente i giradischi torrents e tutte quelle cose lì che hanno avuto un certo affiattamento anzi è un periodo di tempo che dei giradischi torrents non sento più parlare da quando io ho fatto le mie discussioni esattamente nel 2020 e 2021 come vi avevo detto il disco sta tirando e di conseguenza i marchi dei giradischi anche quelli tirano ma se disgraziatamente va giù la moda del vinile cosa fate voi? voi andate a comprare a 1500-2000 euro un giradischi che ha 30 anni con tutte le sue magagne adesso lo comprate perché siete infatuati quando passerà la moda non ve ne fregherà meno di nulla andate al cinema voi a spedere 50 euro per vedere il film Tuono o Karate Kid che ormai è una roba degli anni 80 no perché? perché ha avuto la sua epoca è stato superato lo stesso avvale per il vinile poi naturalmente i costruttori non sanno più che cazzo fare e tranne che cambiarci l'estetica alle casse e l'estetica agli amplificatori hanno dovuto far ritornare in vita il vinile però siccome che ultimamente non è come una volta che una cosa durava 50 anni adesso praticamente è come lo smartphone che ogni 6-7 mesi un anno al massimo va giù di moda e per riascoltare la musica cos'è che fate? niente sarete obbligati a anzi vi vedo una dritta fra non molto sarà l'epoca delle radio dei sintonizzatori come avete ascoltato le radio anni 70 perché le radio anni 70 praticamente stanno ritornando cioè praticamente voi non diciamo sarete sempre preda e oltretutto l'italiano è facile all'abboccare basta solo buttare l'amo e subito 50 miliardi di persone ci abboccano non è un problema al mondo siamo in meno di 9 miliardi ho detto 50 va bene vuol dire che ognuno ci abbocca 5 volte cosa volete fare? insomma non è mica colpa vostra comunque state piuttosto attenti a questi cambi di rotta repentini perché adesso vi riempite di debiti per comprare giradischi, amplificatori, casse, vinili eccetera eccetera poi quando arriverà marzo, febbraio, marzo perché adesso siete tutti accaldati perché prendete le tredicesime ci sono le fiere c'è tutto allora fiere la gente iper accaldata prendete le tredicesime prendete le... e in più oltre a prendere il mese di dicembre e prendere la tredicesima vi fate anche 15 giorni a casa da lavoro di conseguenza c'è il massimo dell'esaltazione no? quando arriva il 7 gennaio che ritornate al lavoro che cominciano a ritornare le rate le bollette e cominceranno ad arrivare le bollette del gas della luce eccetera eccetera di quello che avete consumato da ottobre fino a dicembre ho il vago sospetto che più di qualcuno comincerà a pensarla diversamente quindi io questo pensare diversamente ve lo sto già mettendo davanti avete un buon lettore cd in casa? tenetevelo avete i cd in casa non andate a buttarli via in cambio di 50 euro uno scatolone pieno perché ci sarà questa riscoperta come c'è stata la riscoperta del vinile perfetto ci credete? bene non ci credete continuate a buttar via soldi tanto i soldi sono i vostri io i miei so già come spenderli me li tengo perché ho già tutto non ho un problema ciao a tutti statemi bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti